È arrivato il momento di gustarsi un gustoso restyling in casa Mercedes, sì perché oggi voglio parlarvi di due auto molto molto sfiziose di nicchia che io invece vorrei vedere molto più spesso su strada al posto dei soliti dozzinali SUV. Eh sì perché la casa di Stoccarda ha comunicato e diffuso tutti i dettagli relativi al facelift della classe E, coupé e cabriolet appunto restyling quindi ristilizzata e rivista con l'aggiornamento di metà carriera chiamatelo come preferite. Ovviamente il restyling era già approdato sulla classe E però sulle varianti più tradizionali quindi la berlina e la wagon ora arriva sulle versioni proprio quelle super chiccose. E in cosa consiste questo restyling? Beh intanto abbiamo novità stilistiche, lo vediamo subito anche se le modifiche non sono state pesanti perché squadra che vince non si cambia. Questa generazione della classe E, coupé e cabriolet era veramente elegante e quindi gli stilisti si sono limitati a piccoli ritocchi, a un leggero maquillage come dicono i fighi. E quindi abbiamo paraurti leggermente rimodellati e soprattutto abbiamo nuovi gruppi ottici full head che sono stati ridisegnati. Ora abbiamo la mascherina, la calandra Matrix che è di serie per tutti i modelli e poi arrivano nuovi colori come un po' quelli che vedete in queste immagini. Grigio graffiti, argento mojave e rosso patagonia, bellissimo, ci vorrebbero un po' più di auto rossa invece che i soliti neri o i soliti grigi. Parere personale, nuovi design per i cerchi in lega, quindi un classico restyling che aggiorna un po' tutte le cose aggiornabili, diciamo più velocemente. All'interno il volante e i sedili sono stati ridisegnati e il sistema MBUX ormai arcinoto è stato aggiornato con il sistema operativo più moderno e con un doppio schermo 10-25 pollici, 12.3 pollici al centro della plancia. Rimane disponibile anche su queste versioni l'energizing coach, così lo chiamano in Mercedes, cioè quel sistema con la tecnologia che permette di adattare tanti e diversi parametri della vettura all'umore e alle condizioni fisiche del guidatore. Non solo le luci d'ambiente ma anche per esempio la taratura dei sedili. Abbiamo ovviamente anche nuovi aggiornamenti per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, i famosi ADAS che diventano sempre più avanzati e i sensori capacitivi sullo sterzo, in particolare di questa classe E, Coupé e Cabriolet, permettono di raccogliere tutta una serie di dati sullo stato di attenzione, sulle condizioni fisiche del guidatore e quindi di dare informazioni importanti all'auto in caso uno inizia a essere un po' stanco o debilitato, quindi vedete che le auto diventano sempre più capaci di comunicare con noi almeno a questi livelli di auto, stiamo parlando di Mercedes, molto molto ricche e costose ovviamente. Per quanto riguarda i motori, anche qui arrivano un po' di aggiornamenti, rimangono motori tradizionali a gasolio 220D 194 CV e poi la 400D più esuberante 340 CV e poi le versioni benzina 200 da 197 CV, 300 da 258 e 450 da 367. Per il cambio abbiamo il 9 G-Tronic, made in Mercedes, mi verrebbe da dire, con trazione integrale 4 Matic che è offerta di serie sulle nuove motorizzazioni 6 cilindri in linea, opzionale invece sulle altre che rimangono a trazione posteriore. Abbiamo però anche l'introduzione di una tecnologia mild hybrid, quindi di un microibido a 48 Volt, in Mercedes lo chiamano EQ Boost, 15 KW e 180 Nm aggiuntivi elettrici, che però troviamo solo sul 2000 diesel da 220D e su 6 cilindri 3000 della E450 a benzina. E poi quella più sfiziosa, quella che io prenderei se mai potessi, e cioè la AMG E53, la AMG piccolina senza scomodare i vuoto, quindi la 53 Formatic Plus, così la chiamano i Mercedes, anche qui nomi molto complicati, di fatto abbiamo una classe E Coupé o Cabriolet con 3000 benzina, 435 CV, 520 Nm di coppia con il sistema EcoBoost Mild Hybrid, trazione integrale 4 Matic Performance AMG a ripartizione variabile per un maggiore coinvolgimento di guida e cambia il cambio, scusate il gioco di parole, rispetto alle classiche versioni, la 53 AMG ha una doppia frizione TCT, firmato dagli specialisti di Affalterbach, prestazioni importanti, 0-100 in 4,4 secondi, 4,6 per la Cabriolet e ovviamente 250 km orari o 270 se prendete il pacchetto opzionale che sblocca tutto. Insomma, prestazioni di tutto rispetto, per non essere la AMG regina con il V8, ovviamente le versioni AMG hanno tutta una connotazione estetica particolare, a partire dalla mascherina, listelli verticali, nuovi paraurti con prese d'aria più cattive, devono fare la voce grossa, impianto frenante maggiorato per domare la potenza del 6 cilindri sovralimentato. Queste le novità di classe E Coupé e Cabriolet in sostanza, un bel restyling nel segno di un'eleganza che devo dire è un must su questo tipo di modelli. A voi piacciono queste auto di nicchia, le trovate eleganti come le trovo io, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Un saluto da Matteo Valenti, ciao al prossimo video ovviamente su automoto.it e a tutti i nostri amici. Grazie a tutti.